benvenuti a questo terzo tutorial sulla compilazione della domanda delle gradatori d'istituto di terza fascia personaleata per il triennio 2024 2027 ovvero sia per i tre anni scolastici 24 25 25 26 e 26 27 abbiamo visto come inserire la domanda al sistema una volta che la domanda risulta inserita andando alla scelta della operazione si devono specificare i profili che si intende inserire selezionando la voce inserimento abbiamo nell'ordine dei profili che sono i nuovi profili di inserimento cioè quelli del nuovo contratto del contratto collettivo nazionale lavoro scuola 19 21 allora il primo profilo è quello di assistente amministrativo che vedete come proprio assistente amministrativo e per fare l'inserimento basta modificare la scelta e procedere con la scelta di modifica e si può o fare nessuna operazione quindi risulta non inserito come vedete qui adesso in questa fase siamo con nessuna operazione fatta oppure se si ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado più la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale che sono i due elementi necessari per l'accesso però ricordiamo che la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale può essere acquisita entro il 25 di aprile dunque il mese di aprile 2025 a l'assistente amministrativo basta inserirlo avendo il diploma e risulta un inserimento già fatto si possono inserire nella medesima domanda anche altri profili per esempio quello di assistente tecnico però per l'assistente tecnico attenzione perché bisogna avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e poi la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale la specificità sono quelle definite limitatamente ai diplomi di maturità dalla tabella di corrispondenza titoli che abbiamo fatto vedere nel primo video tutorial per cui se si ha diciamo titolo a inserirsi come assistente tecnico si può fare l'inserimento anche per questo profilo andiamo avanti e vediamo chi chi può inserire il profilo cuoco il diploma bisogna che abbia per il profilo cuoco un diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione settore cucina e più la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per operatori dei servizi agrari invece abbiamo tre tipologie di attestati di qualifica professionale per entrare in questa in questo profilo l'operatore agri turistico l'operatore agro industriale l'operatore agro ambientale e l'operatore agro alimentare più la certificazione internazionale di alfabetizzazione e per inserire dunque questo bisogna fare sempre inserimento ora non è il caso nostro dunque non lo inseriamo come invece collaboratore scolastico possiamo fare entrare le persone che hanno un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al decreto legislativo 61 del 2017 con promozione alla classe quarta da cui emerga il raggiung il raggiungimento delle abilità conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo poi ovviamente vale anche un diploma di maestro d'arte un diploma di scuola magistrale per l'infanzia qualsiasi invece diploma anche di maturità attestati o diplomi di qualifica professionale entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle regioni è del tutto evidente che nel caso di collaboratore scolastico se si ha un diploma di qualifica triennale e magari anche con voto superiore alla maturità conviene esprimere questo qualifica triennale questo diploma di qualifica e poi utilizzare il diploma di maturità come altro titolo valutato altro titolo valutabile poi c'è anche quel nuovo operatore scolastico il nuovo operatore scolastico è una nuova figura introdotta dal contratto collettivo nazionale 2019 2021 che per entrarci basta l'attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale dell'alfabetizzazione dunque effettivamente l'unico profilo che abbiamo visto finora che non ha bisogno della certificazione internazionale di alfabetizzazione quello di collaboratore scolastico poi ci sono ancora il riferimento a al profilo di infermiere vedete infermiere che serve qui in questo caso la laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione per guardarobbiere invece serve un diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado sistema moda e certificazione internazionale dell'alfabetizzazione digitale ecco con questo facendo poi avanti noi ne abbiamo messi per esempio solamente tre andando avanti avrete una situazione di questo tipo cioè nel modello di presentazione della domanda avrete l'inserimento delle tre situazioni delle tre situazioni specifiche che è assistente amministrativo profilo di assistente tecnico e profilo di collaboratore scolastico speriamo che questo video tutorial per l'inserimento a domanda dei profili dei vari profili da in questo caso specifico di assistente amministrativo assistente tecnico laboratori scolastico sia stato diciamo di utilità a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora perché faremo altri tutorial sul modello di presentazione di questa istanza e andremo anche a fare delle dirette in youtube e in facebook proprio per spiegare passo passo come presentare la domanda arrivederci a tutti